mi chiedo solamente di lasciare un mi piace per la mia barba che è sparito ragazzi sono già dispervenuti in questo nuovo cos'è quella roba lì? ma che è un verme? è una cosa veramente fantastica vi giuro che mi sono fatto male prima di cominciare però saluto le persone stavolta lo faccio all'inizio non lo faccio più alla fine ovvero queste per dolore che vogliono essere salutati mi raccomando mi basta semplicemente seguirmi su instagram iiii no mi gira la testa coloro che mi seguiranno e metteranno mi piace le foto verranno salutati più mi piace mettete più avete probabilità di essere salutati ho paura ho davvero tanta paura cominciamo ma bello a tutti ragazzi oddio è uscito dal rovetto kinder per forza per forza metterò in questo nuovo video oggi vi farò vedere questo che è il mio gioco per adesso è il mio gioco preferito è un bellissimo antistress scusami però amore della mamma giusto un'informazione ma che cazzo di stress devi avere a 8 anni che ti hanno rubato il pallone questo l'ho comprato dal giornalaio ma come dal giornalaio? ragazzi ma questo l'ho messo male la robina blu che ho buttato prima l'ho rubata dai marocchini ma cos'è? gli dai pure i soldi per quella merda questi ragazzini di oggi non si rompe cioè si rompe ma non tantissimo non si spacca mille pezzi come i miei coglioni in questo momento praticamente vabbè non funziona ma che cazzo sto guardando? no scusate mi aspetto un momento così io con queste due dita qua funziona alla grande guardate aspettate Pier Giorgio prego dimmi cosa sto guardando ti supplico voglio morire oh mio dio cos'è successo? ho fatto cadere lo spiffy spinner nooo questo era il mio nuovo gioco preferito il mio nuovo antistress in questo video possiamo osservare una rara esistenza dell'homo sapiens più precisamente del bambino ricoglionito questo bambino è in preda alle mode e supplica i genitori a comprare queste mode del cazzo prendendoli degli schiavini di merda ecco questo è forte nooo non ci credo l'ha fatto girare l'ha fatto girare bravo bravo ah 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 fincatevi un bastone superi in culo vi prego Jolly non se l'ha sentito di fare l'outro di questo video quindi lo farò io quindi signori spero che il video vi sia piaciuto in tal caso vi ricordo di lasciare un bello piace e un commento come ho starito vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo siete già a zubare le notifiche e seguirvi su instagram Jolly no se volete essere salutati più mi piace mettete più avete probabilità di essere salutati condividete questo video con tutti i vostri amici e fate vedere anche loro come si usa un fidget spinner detto questo dal dottor Minchia Stan è tutto big up ciao 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 ciao